...dare a dire la vostra figlia qualcosa a Matteo Sampini. Che cosa potrei dire? Potrei dire, io lo conosco solo in televisione, non l'ho mai visto di presenza, ma posso dire che è una persona coraggiosa, una persona valida, e seppur che fosse come lui, l'Italia sarebbe la nazione più ricca del mondo. Ecco. Ciao Matteo. Grazie. Ciao Matteo. Grazie.